Musica Ci ritroviamo con l'edizione di Monza. In apertura la cronaca, fermato dalla polizia, ha tentato di fuggire ma è stato bloccato poche centinaia di metri dopo, arrestato un italiano che in un borsone sulla sua panda aveva 15 kg di marijuana. Per ottenere sale comunale e occupazione di suolo pubblico bisognerà dichiararsi antifascista. È stata approvata la mozione di Monza Lab polemiche in consiglio comunale. Ed è stata inaugurata la nuova palestra di Agrate e Brianza, centro di riferimento per atleti di ginnastica artistica. Il progetto è nato grazie all'accordo tra comune e provincia a seguito del trasferimento di una scuola. Vediamo i servizi. Arrestato per spaccio dalla polizia un cittadino italiano in macchina aveva quasi 15 kg di marijuana. Nel pomeriggio di sabato una pattuglia della stradale di Arcore, durante controlli ordinari, ha intimato l'alta una panda all'altezza dello svincolo di Sesto San Giovanni della tangenziale Nord all'intersezione Comuniale Italia. Il conducente, solo a bordo, ha subito consegnato i propri documenti per l'identificazione, ma i poliziotti hanno notato la presenza, sui sedili posteriori della vettura, di un grande borsone nero. Non solo, dall'interno dell'abitacolo proveniva un forte odore di marijuana. Il conducente si è accorto di aver destato interesse negli agenti e, improvvisamente, mentre i poliziotti controllavano i suoi documenti, ha ripreso la marcia e ha provato a fuggire. Nel scaturito un inseguimento durato poche centinaia di metri, l'uomo è stato immediatamente bloccato. I sospetti dei poliziotti si sono rivelati fondati. All'interno del borsone c'erano 15 pacchetti di plastica trasparente sigillati a caldo. Il narcotest ha confermato, all'interno c'era marijuana, per l'esattezza 14,6 chili lordi. L'uomo è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, sequestrati il cellulare e l'autovettura. Il Consiglio Comunale di Monza ha approvato a maggioranza, tra le polemiche, la mozione antifascista promossa da Lab Monza. Questa prevede la necessità di dichiararsi vicini ai valori antifascisti della Costituzione se si richiede l'occupazione di suolo pubblico e di sale comunali per eventi politici, chieste inoltre di intitolare una via o una piazza alle donne partigiane e di affiggere una targa in memoria di Antonio Gramsci nella via intitolata I. Il Comune di Monza dovrà infine costituirsi parte civile nei processi di odio e discriminazione verso una persona o un gruppo di persone. Con troppa frequenza assistiamo al riaffiorare di azioni fasciste anche sul nostro territorio, spiega il gruppo consigliare di sinistra. Contrastare l'agibilità politica di movimenti, organizzazioni e partiti neofascisti che nulla hanno a che vedere con la democrazia è necessario, come è necessario sensibilizzare la cittadinanza delle nuove generazioni al tema dei nuovi fascismi. Quando un'amministrazione concede uno spazio, concede uno spazio aperto, uno spazio chiuso, a una realtà sta investendo delle risorse pubbliche su quella realtà. E allora quello che mi chiedo io è, è giusto che una realtà che sputa, che disprezza, che vorrebbe annientare la democrazia, lo Stato di diritto, tutto quello che è sancito nella nostra Costituzione, è giusto che riceva delle risorse pubbliche? Secondo me no, secondo me sarebbe una cosa gravissima. Critiche dal centrodestra. Sono convinto che questa mozione sia ideologica e pericolosa. Dà patenti e patentini e mette in grossa difficoltà il sindaco. La posizione di Dario Allevi. Ci sono delle leggi in tema. Le formazioni neofasciste sono già attenzionate. In certi casi sarà difficile decidere se poter concedere una sala o meno. Faccio questo esempio, visto che sono due formazioni lontanissime da me, non hanno mai votato il sottoscritto e mai lo faranno. Quindi voglio dire, parlo a ragione di causa, ma sono state richiamate dalla consigliera Bonetti, Casa Pound e Forza Nuova. Casa Pound e Forza Nuova, a me non piace, ma sono diverse elezioni politiche che si candidano, a volte una, a volte l'altra, a volte tutte e due, appunto alle elezioni politiche. Quindi superano una serie di passaggi delle leggi attuali e cosa facciamo? Noi a Monza, in campagna elettorale, non diamo la sala pubblica per la propaganda elettorale di quel movimento che può competere alla competizione elettorale perché nello statuto ha scritto quelle sciocchezze che ha ricordato la consigliera Bonetti. Non credo che lo possiamo fare. Già operativa da fine settembre e a disposizione per le atlete della ginnastica artistica gratese, per la nuova palestra di Agratebrianza mancava soltanto il momento solenne del taglio del nastro. Situata nei pressi del Parco Aldomoro, la struttura offre uno spazio importante e arredato al meglio per permettere alle ginnaste di tutto il territorio di allenarsi. Un progetto nato dall'accordo tra il Comune e la Provincia per la riqualificazione e il successivo trasferimento dell'Istituto Floriani nell'ex scuola elementare Ferrario, nella cui palestra si allenavano le atlete della ginnastica artistica. Questo innanzitutto è il primo lotto di una nuova area sportiva, una nuova struttura sportiva che sarà presente qui a Agrate. Il primo lotto che si compone di una palestra, come si diceva prima, di circa mille metri quadri, funzionale all'attività in questo momento della ginnastica artistica, vedete tutta una serie di attrezzi e di materassi che sono utilizzati per la ginnastica artistica. Una grande soddisfazione, è stato complicato chiaramente arrivare a questo risultato, gli anni del Covid non hanno aiutato, ma con capabilità e soprattutto con la grande professionalità, sia tutto il personale del Comune, i progettisti e anche degli assessori che hanno seguito nei minimi particolari la struttura, oggi finalmente riusciamo ufficialmente a consegnarla. A fare da madrina all'evento un'eccellenza del territorio brianzolo, la ginnasta villasantese Martina Maggio, medaglia d'oro agli europei 2022 e bronzo ai mondiali del 2019. Io sono nata e cresciuta a Villa Santa alla Robert Virtus, però in questa palestra ora fanno parte due persone fondamentali che sono state importanti nel corso della mia carriera. Sicuramente io ora mi alleno a Brescia in accademia, ormai sono abituata a vedere palestre di alto livello dove ci sono comunque ottime attrezzature, devo dire che questa è veramente una palestra di grande valore e magari avessi avuto io la possibilità di allenarmi in una palestra di questo genere con questa attrezzatura e comunque anche già solo il fatto di avere le buche per delle bambine che comunque imparano cose nuove è molto importante. Sistemare le banchine e curare le aree verdi intorno alla stazione sono le richieste che il comune di Desio ha rivolto alla rete ferrovie italiane. Il gruppo che si occupa della gestione dell'infrastruttura ha ricevuto dall'amministrazione un elenco di problemi riscontrati nelle aree di pertinenza, a partire da uno segnalato da cittadini con disabilità e mamme con passeggini. Le banchine della stazione sono nettamente più basse rispetto ai treni, anche rispetto a quelle di nuova costruzione, dice Martina Cambiaghi, assessora ai lavori pubblici, facendosi portavoce del problema. Per alcune categorie di persone l'accesso è dunque impossibile. RFI ha risposto a questa esigenza comunicando al comune l'inserimento della stazione di Desio nel piano integrato di rinnovo che si chiuderà da previsione nel 2032. L'amministrazione ha chiesto inoltre un intervento urgente per le aree limitrofe, che poco curate potrebbero diventare oggetto di incuria e ricettacolo di rifiuti. I luoghi di intervento, spiega il vice sindaco e assessore all'ecologia Andrea Villa, sono su via Edison per i rovi sul lato est della ferrovia e dopo sottopasso di via Tagliabue sul lato ovest di alcune aree di pertinenza dove spesso si verificano fenomeni di degrado. Lo scalo ferroviario di via la stazione è uno dei biglietti da visita della nostra città, riprende la Cambiaghi ed è nostro dovere assicurare e pendolare ai viaggiatore il migliore impatto, anche estetico, attraverso una radicale pulizia. Le questioni sono note, RFI conclude, il dialogo prosegue, sarà nostra cura aggiornare durante i vari passaggi che si susseguiranno. E prima di salutarci, l'amministrazione comunale di Giussano ha rinnovato la convenzione con la Caritas della comunità pastorale San Paolo, allo scopo di potenziare gli interventi socioassistenziali sul territorio e poter così assistere i nuclei in condizione di fragilità. Anche attraverso un contributo comunale i volontari potranno proseguire le azioni di distribuzione domiciliare di pacchi di viveri, servizio guardaroba, aiuto per il pagamento di utenze domestiche o altri interventi, in accordo con i servizi sociali comunali. E con questo per oggi è tutto, buon proseguimento, buona serata.